Musica Lo sparo di 12 colpi a cannone, lo scampagno festoso dalla chiesa di San Francesco d'Assisi annunciano oggi alla cittadinanza di Gela l'inizio dei festeggiamenti in onore dell'immacolata concezione della Beata Vergine Maria, padrona principale della Sicilia. Nei giorni scorsi i ragazzi del Catechismo e i giovani sono stati inviati nei quartieri della parrocchia per invitare i fedeli alla novena. Da oggi sarà un avvicendarsi di fedeli che in osservanza di una tradizione antica rinnoveranno il rito di venerazione della Sacra Effigie con il canto dello stellario. Si rinnova ancora quest'anno la devozione verso la Vergine Immacolata, patrona principale della nostra Sicilia e la città di Gela ha sempre nutrito questa particolare devozione verso la Madre di Dio attraverso il novenario e poi la grande festa con il podificale, così anche la processione. Qui la Vergine Santa nel passaggio benedirà ancora una volta la nostra città, le nostre famiglie e tutte quelle situazioni di dolore, di sofferenza, di mancanza di lavoro, di prospettive che la nostra città sta vivendo. Allora vogliamo ancora affidare alla Madonna la nostra vita affinché lei possa presentarla al Signore. Sappiamo quando lei è potente verso il cuore del figlio e quando lei per noi diventa ponte, diventa cerniera e diventa questo tramite nell'amore, nella fedeltà verso il Signore. E lei possiamo noi capire quando è stata grande l'opera del Signore e quando può essere grande per noi il suo amore, il suo progetto di misericordia. Numerosi gli appuntamenti che vedranno coinvolte diverse realtà di Gela, dalle associazioni che si occupano dell'assistenza ai poveri a quelle che si prendono cura delle mamme in attesa e della vita nascente, dai giovani della città ai portatori del simulacro. Numerose le figure presbiterali coinvolte nei festeggiamenti. Nel novenario saranno sia Don Giuseppe Fauciana, così anche Fra Luca Bonomo a predicare nelle varie celebrazioni, sia la mattina alle ore 7 e così anche nel pomeriggio alle 18.30. Poi ci saranno altri sacerdoti che celebreranno come Don Donino Ferrara che ricorderà grata al Signore l'anniversario della sua ordinazione. Così domenica alle 16.30 ci sarà la conferenza tenuta da Fra Rosario Pistone, domenicano e docente di Esegesi al Nuovo Testamento, alla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, dove tratterà anche sul tema della Chiesa povera per i poveri, e questo itinerario che stiamo portando avanti, così come indicato dal nostro Vescovo. I festeggiamenti si concluderanno l'8 dicembre con il solenne pontificale alle 11, presieduto dal Vescovo della Diocesi di Piazza Merina, Monsignor Rosario Gisana, alla presenza delle autorità civili e militari di Gela. Il Sindaco, a nome della città, rinnoverà il voto di fedeltà accendendo la lampada posta sull'altare. Nel pomeriggio, con l'antico canto delle litanie, prenderà avvio la solenne processione del simulacro per le vie della città. Sarà assessore regionale al lavoro e della famiglia Mariella Ippolito, presidente di Federfarma, presidente dell'Ordine dei Farmacisti, farmacista di Milena e una delle due donne scelte dal presidente della regione Nello Musumeci per far parte della sua giunta. Unica nissena presente. La Ippolito, stimata professionista, sposata con Matteo, mamma di Antonio e Cristina, uno medico e l'altra farmacista. Proprio Cristina probabilmente la sostituirà in farmacia durante questo lungo impegno che l'aspetta in assessorato regionale. È nonna di un bambino. Si è candidata nelle liste del Movimento per l'Autonomia Idea Sicile ed ha raggiunto i 2.188 voti, ma il seggio non è scattato. Adesso dovrà gestire due deleghe estremamente impegnative la famiglia ed il lavoro. Il giuramento avverrà nei prossimi giorni, prima dell'11 di dicembre, il giorno in cui ci sarà l'insediamento ufficiale all'Assemblea regionale. Dal prossimo 1 gennaio sarà erogato il reddito di inclusione REI, una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale condizionata alla valutazione della situazione economica. L'ho reso noto il sindaco di Gera, Domenico Messinese. Il REI associa un beneficio economico erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica ed un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune. Per accedere al reddito di inclusione ed ottenere la carta REI, deve essere presentata domanda al protocollo generale del Comune di Gela a partire da venerdì 1 dicembre su un modello predisposto dall'Inps all'istanza debitamente compilata dovrà essere allegata la seguente documentazione attestazione ISEE in corso di validità completa di dichiarazione sostitutiva unica certificato di disoccupazione qualora sussiste il caso e fotocopia del documento di identità in corso di validità. Per scaricare il modello dell'istanza è possibile consultare il sito del Comune all'indirizzo comune.gela.cl.it dell'Inps o del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali oppure si può richiedere all'Ufficio di Segretariato Sociale in Viale Mediterraneo a Gela. È stata presentata ieri nella sala conferenza del liceo scientifico Elio Vittorini di Gela l'ultima fatica letteraria di Carlo Barbieri si intitola La difesa del bufalo. I lavori sono stati introdotti dal dirigente scolastico Angelo Tuccio. La presentazione del volume è stata affidata alla docente Teresa Mammoliti coadjuvata da alcuni studenti presenti all'appuntamento oltre agli allievi del liceo molti appassionati della letteratura di Barbieri. Libro che parla di un foreign fighter un radicalizzato un quasi palermitano perché è arrivato non con i barconi ma con i traghetti come usava 20-30 anni fa da Tunisi a 5 anni è cresciuto fra noi è cresciuto come uno di noi ma non è cresciuto esattamente integrato e da questo nasceranno certe difficoltà certe rabbie che lo porteranno a diventare un radicalizzato che va a combattere fuori per l'Isis e un giorno gli viene detto gli viene proposto di tornare a Palermo stavolta con una missione suicida e lì parte la trama del libro il commissario Mancuso dell'omicidi che non c'entrerebbe affatto perché lui si occupa di omicidi e non di queste cose si trova coinvolto per caso o visto che c'è la santuzza di mezzo chi lo sa forse non è proprio un caso in una corsa contro il tempo in una gara a due fra lui che cerca di impedire l'attentato e l'attentatore che cerca di portarlo a compimento il liceo è il luogo ideale dove poter non dico avviare perché dovrebbero essere già stati avviati in precedenza ma dove comunque consolidare eventualmente l'amore e la passione per la lettura è come obiettivo trasversale riguardo a certi contenuti di alcuni libri di alcuni racconti riconoscere vedere il valore di ciò che viene portato avanti le tesi che vengono affrontate nei diversi racconti nelle diverse tesi perché noi non abbiamo ospitato solo scrittori di romanzi ma anche di saggi per cui i ragazzi si sentono più vicini si sentono più vicini e più coinvolti non dall'alto ma è come se fosse un accostamento quasi diciamo di scelta elettivo è proprio questo poi lo scopo della scuola cioè fare incontrare i ragazzi e la realtà e bisogna sempre sortarli stimolarli alla lettura e una cosa è stimolarli in classe con la nostra ramanzina con la nostra predica una cosa invece è stimolarli tramite un incontro diretto con lo scrittore con il quale possano veramente dialogare riguardo a questa realtà ma non soltanto riguardo alla realtà letteraria ma come si diceva riguardo alla realtà dell'attualità anche quella più drammatica che ci sta coinvolgendo in questo periodo quindi è sicuramente un dialogo molto costruttivo da ogni punto di vista far conoscere i mercati dell'Africa sub-sahariana le opportunità e le criticità al fine di sviluppare attività di internazionalizzazione questo l'intento dell'incontro promossa a Caltanissetta dal CNA Sicilia la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e da Internazionalia un incontro rivolto alle imprese dell'isola interessata di investire nei nuovi mercati a fare gli onori di casa il presidente del CNA di Caltanissetta Giovanni Manduca il presidente siciliano Nello Battiato e il segretario regionale Piero Giglione le possibilità sono immense si parla sia nell'investimento in loco nel settore produttivo perché ci sono diverse aziende italiane che stanno facendo questo passaggio con partner locali e quindi producono per il mercato dell'Istafrica parliamo di circa 350 milioni di abitanti e quindi un mercato importante per chi va a produrre in loco poi c'è anche il settore delle costruzioni delle infrastrutture che è un settore booming perché ovviamente per sviluppare l'industria ci vogliono anche le infrastrutture quindi stradi aeroporti ferrovie e quant'altro quindi diciamo che c'è l'imbarazzo della scelta per chi è veramente interessato a questi mercati ovviamente deve essere una scelta fatta con coscienza e deve essere una scelta presa in pieno non si può andare in Africa andando con una missione noi purtroppo abbiamo molto spesso delle aziende che vengono in due giorni e sperano di concludere l'affare del secolo ecco questo non è possibile l'iniziativa rientra nell'ambito del format IALAB officine di Info Africa per la formazione e l'internazionalizzazione organizzate da uno specifico gruppo editoriale nato dall'incontro di giornalisti e ricercatori con esperienza ultradecennale nel campo dell'informazione estera ci occupiamo di informazione per aziende e istituzioni informazione sull'Africa un'Africa diversa rispetto a quella che spesso viene presentata dai media mainstream in Italia l'Africa forse meno conosciuta quella che sta crescendo che si sta sviluppando presentiamo questa Africa alle aziende italiane alle istituzioni italiane che guardano all'Africa per i più diversi motivi per motivi di business per motivi politici la visita in questi giorni in Africa del nostro primo ministro Gentiloni è stato in Ghana in Tunisia andrà in Angola è un po' testimonianza di questo crescente interesse che l'Italia ha nei confronti del continente africano sul continente africano si giocano un po' le sorti dell'Europa i flussi migratori che noi vediamo sono soltanto un pezzetto di una storia più ampia una storia più ampia che non è raccontata appena e che oggi qui a Caltanissetta cercheremo di raccontare di presentare a quello che è il tessuto economico anche aziendale delle province siciliane il Lions Club del Golfo di Gela presieduto da Rosario Caci per la vista dei bambini appuntamento domani presso la scuola primaria Rita Levi Montalcini in via Galilei dalle 9 alle 13 con l'unità mobile oftalmica donata dai Lions all'Unione Italiana Ciechi lo screening volontario prevede la comunicazione alle famiglie dei bambini potenzialmente a rischio di occhio pigro mediante i dirigenti scolastici di eseguire una visita eucaristica completa non amiamo a parole ma con i fatti è il tema dell'anno sociale 2017-2018 della associazione Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana Salvatore Zuppardo di Gela l'apertura ufficiale avverrà sabato 3 dicembre alle 18 con una celebrazione eucaristica preseduta dal vescovo di Piazza Almerina Monsignore Rosario Gisana nella parrocchia San Sebastiano in occasione dell'emissione canonica di Don Giorgio Cilindrello nella chiesa del quartiere Settefarine Prosegue fino a domani la mostra fotografica La Gela che fu organizzata da Franco Pardo e da Franco Cerniglia l'iniziativa si svolge nella sala congressi di Macchitella alcune foto sono esposte anche in alcuni locali della zona è stato rinviato i prossimi sabato 17 e domenica 18 marzo lo spettacolo teatrale Il Cavaliere Pedagna previsto per sabato 2 dicembre alle 21.15 e domenica 3 alle 17.15 al Teatro Comunale Eschilo di Gela Giovedì 7 dicembre invece alle 17.15 alle 21.15 Gianfranco Iannuzzo e Deborah Cabreglio porteranno in scena alla faccia vostra il botteghino aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20 Telefoni 0933 91 1892 345 58 80 580 E i prossimi 13 e 14 dicembre alle 21 all'antidoto di Macchitella a Gela la compagnia teatrale Artefatti porterà in scena forse meglio Figlio di NN per informazioni 0933 82 2707 338 71 43 293 E' prevista per sabato 9 dicembre prossimo a Gela l'ottava edizione Cori con Papa Natale promossa dalla associazione Green Sport Promotion di Giuseppe Veretti appuntamento in piazza Umberto I dalle 9.30 per informazioni ed iscrizioni telefonare al 347 5799 271 e e Grazie a tutti